I contattori, i teleruttori, sono adatti per l'insezionamento e il comando d'emergenza, adesso sì, indomani non è detto che lo siano più. In questo caso lo trovate già in una domanda di un certo Fabio, no scusate Vincenzo, del 22 novembre 2021. Quasi due anni fa sapevamo già sta roba, attenzione, se potete evitate di usare i teleruttori come comando di emergenza. Perché non si possono usare? Quindi ho una autorimessa? Devo andare a sganciare l'autorimessa? Non la sgancio col teleruttore, la sgancio col magneto tecnico, con un qualcosa che non mi dicano un giorno che è vietato.